Qualcuno sai perché dell'assemblea? Forse c'è stato un colpo di mano. Webber scende, Shepard sale, vero? Sappiamo quello che sei tu. Halle, tua sorella è sposata con lui. Vuoi farmi credere che non sai niente? Non hai i tuoi amici sfigati con cui parlare? Ho sentito che Shepard vuole fare un ripulisti. Magari comincia da te. Io sto tranquillo, abitiamo insieme. Dovreste guardare di voi le spalle. E che? Che sai? Semplice deduzione. Shepard odia la fusione con il Mercy West. Siete fritti. Derek non manderà via le persone perché vengono dal Mercy West. Non è così. È leale e corretto. Sì, vallo a dire Webber. Le uniche capacità sulle quali contare...